In questo momento a fare gol, testa stop, vince una zero l'Atalanta che non sarà bella come vuole lui Ma l'Atalanta è il migliore di sempre, quella di Gasperino dopo 8 giornate di campionato 20 punti, primo posto in classifica insieme al Napoli, confermato anche dopo la sosta Dall'altro lato arriva un altro zero per la Fiorentina, per punti, ancora una volta per gol fatti, premio sbotto Non posso aspettare la giornata di domani, domani mattina, sapete, recap, parliamo di tutte le partite e della classifica Ma non posso aspettare, devo riavvolgere il nastro, parlare dell'Atalanta e della Lazio, di entrambe le partite Due squadre che sono lì in alto, due squadre che ci arrivano giocando in maniera totalmente opposta, totalmente diversa Da un lato l'Atalanta, oltre ai dati citati, 20 su 24 Vale la stessa storia che abbiamo detto ieri per il Napoli, 20 su 24 20 su 24 e ci arriva subendo solo 3 gol Solo 3 gol, nettamente la miglior difesa, chi l'avrebbe mai detto Dall'altro lato invece la Lazio, che qualche gol in più lo concede, anche se poi so 5 Però è tra i migliori attacchi, 17, uno in meno del Napoli Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia Partiamo dalla Dea, da questa ennesima vittoria, un'Atalanta che sta raccogliendo tantissimo E lo fa, saremo ripetitivi Sarò ripetitivo, ridondante, anche spocchioso, forse spero proprio di no Però va detto, questa è una squadra che ha imparato a soffrire Se c'era una cosa che non sapeva fare la Dea era soffrire Cioè la Dea per ottenere risultati doveva andare a 1000 all'ora Alzare al massimo il ritmo, creare 20 occasioni a partita E bastavano 5-10 minuti in cui invece bastava l'intensità e boom Invece no, tutto il contrario adesso, è un'Atalanta diversa Ne parliamo, prima vi voglio invitare a lasciare un like A iscrivervi se volete seguire i prossimi contenuti Te l'ho detto, domani mattina recap, facciamo, riavvolgiamo il nastro su tutte le squadre, sulla classifica Stasera parliamo anche della Juventus Per cui ce ne stanno di cose da dire Ma, se a voi non interessa una mazza come dico sempre Scaricate OneFootball, perché magari non seguite i miei contenuti Ma volete comunque rimanere aggiornati Comunque valutare il calendario, classifica Rivedere almeno i gol delle partite o comunque gli highlights C'è di tutto e di più la voce degli allenatori Trovate di tutto ed è tutto gratuito Per cui link in descrizione o QR code per rimanere attivi e aggiornati Grazie a OneFootball Cosa aspettate? Divido il video ovviamente in capitoli Partiamo dalla Dea, poi riavvolgo il nastro anche sulla Lazio La Lazio dei Zaccagni Milinko, Salberto, Immobile, Filippa Mamma, Romagnoli Partendo dalla Dea L'ho già detto, l'incipit è quella È una squadra totalmente diversa È una squadra... Bravo l'allenatore Cioè ogni volta possiamo dire tutto quello che vogliamo Di Gasperini che lo troviamo poco apprezzabile dal punto di vista della comunicazione A molti sta antipatico Soprattutto a chi non ce l'ha in panchina Devo dire, no? Com'è giusto che sia Ma questo qua è un allenatore che Ripeto, è riuscito a migliorare Il punto debole della squadra Il punto debole della squadra è diventato il punto di forza ad oggi Il punto debole che diventa il punto di forza l'ho visto poche volte L'ho visto veramente poche volte E Gasperini c'è riuscito in toto C'è riuscito in toto Ripeto, è una squadra che sta lì, è equilibrata Che è aggressiva Non significa che non faccia nulla la Dea per vincere le partite Che sia chiaro, eh Che sia chiaro il discorso Ma di certo non è quell'arrembante che va sempre comunque a uomo Uno contro uno Ce la giochiamo Avviso aperto Andiamo a mille Tutti in avanti E vediamo quello che succede No, questa è una squadra molto più equilibrata Ponderata Accorta Attenta Ed è una squadra che concede poco Tre gol subiti Parlano chiaro anche oggi Mamma mia Che c'è Scusate un secondo Sto registrando Terè Terè Dopo E vai avanti Vai avanti Tranquilla Ciao 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 E pizza Pizza da sport Via Allora Dicevamo La squadra L'Atalanta Che non è che non Non faccia nulla Ripeto Molto molto attenta Molto molto attiva E colpisce La squadra che colpisce Sai che prima o poi qualcosa Accade Soprattutto quando giocatori come Muriel Invento Perché Muriel Ragazzi Si può dire Si può criticare Lo stesso Gasperini Che dice No ma in altre squadre Giocherebbe di meno Però quando ce l'hai E sta abbastanza bene Lo fai giocare Lo fai giocare Muriel Perché è quello che ti può inventare qualcosa È vero che ha vinto magari Il rimpallo Lì nell'occasione del gol Però È quello che ci prova È quello che crea È quello che illumina Nel primo tempo Nonostante fosse fuori gioco È apprezzabilissimo la giocata Viene dal largo Si accentra Via Tiro Bucca d'angolo Non prende la porta di poco Ha delle giocate incredibili L'altro giocatore Secondo me Molto molto attivo È Luckman A me Luckman piace tantissimo È estroso Ha classe Ha talento Cioè è brioso A me piace tanto Tanto Luckman Poi Inutile citare i vari I vari cupminers Che stanno facendo da Dio Ma il reparto difensivo Ripeto L'intero reparto Comunque è difficile A parlare del singolo Quando parlo dell'Atalanta Ancora una volta Mi viene da parlare Del collettivo Del collettivo Tutti dietro O meglio Tutti a difendere Tutti ad attaccare Tutti responsabili Tutti responsabili Ragazzi 20 su 24 Sono tanti punti Questi numeri Sono importanti Capacità di soffrire Capacità di pareggiare Anche con il Milan Di battere in qualche modo Anche nelle difficoltà Alla Roma Di fare risultato Con le grandi E con le piccole È tanta roba È veramente tanta roba Mai partita così forte Attenzione Perché lo abbiamo già detto E lo ripetiamo Questa è una squadra Che non giocherà In Europa Per cui Nel momento in cui Ci saranno Ci saranno Appunto i turni Infrasettimanali Godrà Godrà Di maggior tempo Per preparare le partite Tanta tanta roba Attenzione Alla Dea Di Gasperini Come ho già detto Per la Champions Ci sono Per la Corsa Champions Ci sono Mettiamocelo in testa Mettiamocelo in testa E quindi è dura È veramente Veramente dura Fiorentina Giusto per Parlare anche Un minimo della Fiorentina Fiorentina Ha sempre Quella capacità Di provare a fare La partita Contro chiunque Di provare A gestire A giocare No Ad andare avanti Anche con tanti uomini Ma quello che non capisca Che non riesca a capire Della Fiorentina È perché Nonostante la mole di gioco Poi siano Non solo Poco concreti Ma alcune volte Anche poco pericolosi Poco incisivi Io ricordo Qualche giocata sporadica Di qua a me Ricordo Qualche tiro di Di saponare Quella all'inizio del tempo Ribattuto dal portiere Dove tra l'altro Anche quella Era abbastanza centrale Ma pochi Pochi pericoli Poi nel finale È entrato Jovic Saponare in aria Ha avuto forse L'occasione più ghiotta Nella ripresa Però ripeto Troppo poco Per come si impone Nella partita La Fiorentina Per come si impone Per come il proprio gioco Lo imposta Troppo poco Secondo me Secondo me Io mi permetto di dire questo Lo dicono anche i risultati Perché altrimenti Secondo me Avremmo altri risultati Che la Fiorentina Potrebbe ambire A cui potrebbe ambire Dicevo appunto Vediamo Vediamo Ovvio che Non sto dicendo che L'allenatore vada cambiato Che sia un problema Anzi tutt'altro Secondo me È la soluzione Quando si dice Il problema o la soluzione Veramente italiana È la soluzione A differenza di Di altre situazioni Per cui Vediamo un pochettino Di certo è Che bisogna fare di più Secondo me La Fiorentina Deve Deve Può fare Fare di più Andiamo all'altra Andiamo all'altra Se c'è una squadra Ho detto C'è per la Champions Io ho anche la Lazio di Sarri Quest'anno la metto Per la rotta Champions Eh sì Ragazzi Sì Eh sì Ma non parlo Neanche tanto Della classifica Che li vede A 17 punti Se non vado errato Vediamo un attimino Sì 17 Al pari Del Del Milan Non è tanto Per una questione Di classifica Quanto per il gioco Espresso La Lazio Aveva un grande Deffetto E forse ancora Ce l'ha Se andiamo a vedere L'ultima partita L'ultima Sì O la penultima No l'ultima Di Europa League Quello che alcune volte Che è pigra Incostante No E ti può Capitare che ci sia un risultato Totalmente nefasto E quindi La costanza Però quando Quando la Lazio c'è E c'è E so dolori per tutti Se la Lazio c'è C'è E so dolori per tutti Perché Perché oltre a un gioco Che sta migliorando Cioè La Lazio di Sarri Il primo anno Era veramente grezza Cioè Era un Un cantiere aperto Come è giusto che sia Quando cambi Il profilo Il profilo tecnico No L'allenatore Il progetto tecnico No il profilo Che cazzo dico Il progetto tecnico Ci può stare No Che ci sia Un momento Anche medio lungo Di assestamento No Nuove idee Da assimilare Da parte dei giocatori Ecco Siamo al secondo anno I miglioramenti si vedono Cioè I miglioramenti si vedono Si vedono Sotto tutti Sotto tutti i punti di vista È la prima volta che la Lazio riesce a raggiungere Tre vittorie consecutive E già questo è uno step importante Non è da poco Senza ombra di dubbio Non è da poco Poi direte voi Oggi l'avversario Era semplice Tutte le partite vanno vinte Tutte le partite vanno giocate Soprattutto vincerle Convincento in questa maniera Non è scontato Non è semplice Non è Non è Non è da tutti E E poi Al di là del risultato ampio Io ho visto Ho visto qualità Cioè Ripeto Del gioco Ho appena parlato E discusso Ma della qualità Di alcuni giocatori Bisogna Bisogna approfondire Zaccagni Zaccagni per esempio Il primo Il primo gol Che poi Nasce Dalla sua discesa E va a concludere lui stesso Io vedo giocatori Nella Lazio Che saltano l'uomo Cioè A me manca come il pane Un giocatore come Zaccagno Come Felipe Anderson Che prende Ti salta l'uomo Ti crea superiorità numerica A me manca come il pane E la Lazio li ha La Lazio è un giocatore Che comunque possiamo criticare Nome nazionale Intanto Al di là di oggi Che poi ho sbagliato il rigore Ma comunque è stato decisivo Nel gol più bello Della Lazio Il terzo E comunque un giocatore Che nella Lazio È un upgrade pazzesco Nella Lazio Fa quello che gli pare Nella Lazio Aumenta Aumenta la qualità Collettiva Della squadra Un giocatore A stagione Da 30 golle In alcune Anzi No Nelle ultime stagioni Un giocatore incredibile E poi Due centrocampisti Di livello E ci aggiungere anche Lo stesso Cataldi Che secondo me Parliamo poco Ma è quello Che sta dando Anche un qualcosa in più Però Mi rincavoce Savice È una bestia Sicuramente Credo Ieri ho parlato Di Leao Miglior giocatore Della Serie A Qualcuno ha storto il naso In molti invece no Di sicuro Savice è il miglior Centrocampista Della Serie A Se su Leao Qualcuno può avere dubbi Io non ne ho Su Savice Che sia il miglior Centrocampista Della Serie A Credo nessuno Possa avere dubbi Perché questo qua Ha tutto Ha veramente tutto Gol Su gol Vedevo i numeri Che mostravano Prima della partita Robe veramente Paurose Ed è un giocatore Giocatore incredibile Che fa tutto Va a concludere Nella fase Di contenimento È incredibile A fisico A stazza A inserimento A tecnica Tutto Cioè Centrocampista Completo Sotto tutti i punti I punti di vista E poi C'hanno anche il genio Che è Luis Alberto E lo diciamo sempre Sarri deve trovare Deve fare Deve fare il massimo Deve fare il massimo Unendo Questo connubio Questo connubio Perché il genio Poi di Luis Alberto Ti fa sì Che se vai a vedere Il terzo gol È un capolavoro Il terzo gol Della Lazio È un capolavoro Ma è l'ennesimo Capolavoro Ormai ci siamo Abituati Passaggio Palla filtrante Di Di Come si chiama Palla filtrante Di Luis Alberto Bellissima Tra l'altro Come al solito Wizio incredibile E poi immobile Che come al solito Sa Raccoglie a profondità Guarda Alza la testa Gioca con la squadra E Savici chiude Bella Bella azione Ed è questa È la Lazio È la Lazio di Sar Attenzione Qualcosina comunque si può E si deve comunque migliorare Lo Spezia è vero che ha fatto zero gol Ma a qualche occasione L'ha avuta L'ha creata Si pensa a un solare Va via su quella fascia La mette dentro E chi vi sbaglia O comunque è stato murato Ci sono state delle situazioni Però La Lazio è nettamente migliorata Nettamente migliorata Assolutamente Ragazzi Ci sentiamo dopo Con la partita Tra Juventus e Bologna E niente Ragazzi C'è da fare conti Con queste squadre C'è da fare veramente Conti seriamente Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Commentate Se volete iscrivetevi al canale Un grande abbraccio Da Neschio